teniamoci stretta questa pagina facebook perché c'è la carola che ci vuole chiudere ragazzi attenzione è anni che ci conosciamo è anni che mi sopportate e anni che ascolto i vostri consigli e magari finita è finita perché è arrivata la signorina carola racchete che guidando in mezzo al mar finché la barca va la lasciano andare ogni tanto rischia di tirare sotto delle motovedette della finanza ma è un danno collaterale per una salvatrice dell'umanità cosa volete che siano cinque militari della guardia di finanza di fronte a colei che sta salvando i destini dell'uomo ebbene oggi ha tramite i suoi avvocati evidentemente hanno una schiera di avvocati e un bel po di quattrini per pagare questi avvocati hanno presentato una delle tante denunce che mi riguardano quotidianamente chiedendo di chiudere il profilo facebook e twitter perché istiga all'odio